Il governo non dialoga con studenti e studentesse ma si limita a calare decisioni dall'alto. Ad Avellino gli studenti sono scesi in piazza per chiedere una riforma definitiva per l'esame di maturità. I ragazzi che si appressano a completare il ciclo di studi e quindi a sostenere l'esame di Stato in particolare precisano considerando l'esame di maturità il frutto di un percorso scolastico di 5 anni riteniamo sbagliato che non si sia tenuto conto delle modalità in cui i maturandi hanno svolto buona parte del triennio. Riteniamo che la forzatura di una normalità come la chiama il governo sia solo apparente in realtà gli studenti e le studentesse non sono stati ascoltati dal ministero dell'istruzione e la riforma di questo sistema scolastico è ancora così lontana che stiamo cominciando a perdere le speranze o arrabbiarci ancora di più. Quindi noi siamo qui per dire che la normalità non è quella che ci sembra la normalità è un sistema scolastico che sia nuovo dove gli studenti di 18 anni non muoiono per fare alternanza scuola-lavoro dove gli studenti e le studentesse non devono sentire il peso e l'oppressione per un esame di maturità che non è calzante con le loro passioni e la loro vocazione. Ci sentiamo repressi perché il 28 gli studenti e le studentesse sono scesi in piazza e sono stati repressi dalle forze dell'ordine a forza di manganellate, di cariche, nelle città più grandi d'Italia e noi non possiamo esimerci di fronte a questi episodi, non possiamo far finta che non siano successi vogliamo delle risposte da parte del Ministero. Ci sono due anni di DAD pregressi che non possono consentire un ritorno alla normalità adesso subito con i ragazzi che comunque hanno dei danni da questo periodo di pandemia inevitabilmente. Normalmente si lavora sull'esame di Stato praticamente dal primo anno, non possiamo pensare di voler fare adesso nell'ultimo anno recuperare per fare un esame che non è come l'esame tradizionale che però sicuramente non è quello che ci aspettavamo tra le altre cose perché il cambio è stato repentino al momento quando comunque si prevedeva un esame con una prova orale e la prima prova scritta.